Allora, possiamo cominciare la presentazione di informatica. Anzitutto, io mi presento, sono Massimo Marchiori, uno dei docenti, insomma, in forza al Dipartimento di Matematica e anche, chiaramente, docente della laurea. Allora, la prima cosa che volevo fare, visto che c'è poco tempo e chiaramente, insomma, questa è solo una pillola, come si fa a presentare un intero corso di laurea in 15 minuti, capite bene che bisogna sintetizzare, è un quiz, ok? Per cui vorrei farvi un quiz e il quiz è qual è la professione più richiesta in Italia. Potete controllare facilmente perché una notizia è uscita sui giornali pochi giorni fa, ok? E la risposta a questo quiz è semplice, è l'informatico, ok? Per cui l'informatico è la professione più richiesta in tutta Italia, numero uno. Cioè c'è bisogno di informatici sempre di più e al numero uno nel mercato del lavoro, la domanda offerta, c'è l'informatico. In realtà questa è una risposta sbagliata, ok? È sbagliata come risposta perché si parla sempre di informatico, ok? Come se fossimo rimasti a 25-30 anni fa, in cui la figura dell'informatico classica qual era? Quella persona china sul computer, no? Con un paio di occhiali spessi 30 centimetri. Quella è magari lo stereotipo dell'informatico, ok? In realtà siamo nel 2022, è cambiato tutto. Cioè l'informatica è qualcosa al mondo d'oggi di completamente diverso. È ovunque l'informatica. E soprattutto non si parla solo di informatico, con la O, ma l'informatiche, ok? La lingua italiana non è molto flessibile. In altre lingue non c'è il genere maschile, femminile. Tant'è che noi cominciamo ad avere presenze sempre più femminili. Com'è giusto che sia? Perché all'estero non c'è quasi nessuna distinzione in informatica tra l'informatico maschio e l'informatico donna. Ma si parla di informatica perché ci sono tantissime cose belle che l'informatica tocca che non hanno a che fare con il genere, con il senso. Per cui vi faccio un esempio classico. Nel web design, cioè costruire siti web belli, attraenti, o nel social web, il web sociale che sapete sta spopolando, si parla di social manager, Twitter, Instagram, Facebook. Beh, le donne sono in grande maggioranza in realtà. Cioè gli esperti di contenuti social e di web sono più donne che uomini. Questo solo per darvi un'idea di come sia magari vecchio lo stereotipo dell'informatico con la O maschile. Allora brevemente parlandovi della laurea in informatica, vabbè sapete come tutte le lauree è un 3 più 2, per cui ci sono 3 anni di laurea breve e poi 2 anni di laurea magistrale. Ve l'accenderò brevissimamente per un motivo che tocca anche chi è interessato alla laurea breve, poi ve ne parlo. Che cosa fa la triennale in informatica? Insegna le basi dell'informatica e poi vi prepara anche a fare cose magari più ambiziose. La laurea magistrale, se uno vuole andare avanti, progetti avanzati, insomma tutto quello che la fantasia ci permette di pensare. e anche chiaramente prepararci al mondo del lavoro. Il vero punto, quello che vi dicevo prima, è che l'informatica ora governa il mondo. Cioè guardatevi attorno, una qualunque delle tecnologie che governano la nostra vita, dal telefonino all'automobile, al televisore, cioè alla base hanno tecnologie informatiche. Cioè l'informatica non è più, come vi dicevo, stare davanti a un computer in una sala, a fare chissà cosa, cioè l'informatica è nella vita di tutti noi, ok? L'informatica fa parte della nostra vita, per questo è la professione più richiesta in Italia e nel mondo, che è presente ovunque. Pensate a un qualunque oggetto e lì c'è tecnologia informatica, reti, telefonini, automobili, qualunque cosa praticamente viene governata dall'informatica, ok? Allora non è sorprendente per cui che il punto di forza dell'informatica si poi si ripercuota nel mercato del lavoro. Vi dicevo che la professione più richiesta è l'informatico, ok? E solo per darvi qualche dato, a cinque anni dalla laurea lavorano oltre il 97% dei laureati, ok? Per cui il lavoro si trova, è una cosa facilissima da trovare, solo per menzionarvi che viene anche pagato bene, proprio perché è un lavoro insomma molto, ma molto richiesto, ok? Per farvi un confronto con altri dati, laureati un'IPD, ok? I laureati un'IPD, diciamo tutte le lauree, trovano lavoro dopo un anno in media il 38%, quelli in informatica chiaramente trovano lavoro molto di più, il 76%, ma non solo, ok? Il 76% vi dicevo trova lavoro praticamente subito, e il 30% continua a studiare, ok? Allora uno magari fa una sommetta e dice, ma un attimo, il 76% più il 30% fa il 106%, qui c'è qualche dato sbagliato, no? Nessun dato sbagliato, la risposta a questa apparente follia è che molti, moltissimi trovano lavoro ancora prima di aver finito gli studi, anche noi nella trennale comunissimo, che prima di fare la laurea e prima di laurearsi si trovi già lavoro, tanta è la richiesta di informatici e di informatiche, come vi dicevo, presente al mondo, ok? Allora come tutte le cose belle c'è anche un limite, nel senso che proprio perché è una professione molto richiesta, abbiamo tantissime richieste di entrata alla laurea, c'è una soglia, ok? C'è una soglia limitata a 180 persone, questo anche per preservare un buon rapporto studenti-docenti, cioè le classiche aule, no? Le aule bestiame di cui si parlano, chiaramente da noi non ci sono, perché c'è questo limite, in modo che quelli che entrano sono seguiti bene, e non è semplicemente un esamario o la laurea, ma avete anche magari dei professori che riescono a seguirli per bene, ok? C'è un esame di ammissione, se ne è anche parlato prima, questo vale per tutte le lauree di scienze e ingegneria, vi menziono solo che per prepararvi ci sono degli aiuti, c'è per esempio un ottimo precorso di calcolo, no? Preparato dall'università, ok? È gratuito, si trova su Eduopen, ma senza stare lì a memorizzarsi l'inc oppure a riguardarsi la presentazione, basta che appunto informatica, motori di ricerca, andate su Google, scrivete un IPD scienze prepararsi al test e lì trovate tutte le informazioni necessarie, per cui fatevi aiutare, se volete fare questi test di ammissione sapete che c'è modo di avere aiuto, ok? L'esame di entrata di cui si è anche parlato prima, il talk si fa in varie sessioni, no? Marzo, maggio, luglio e settembre, chiaro, no? Prima si fa, meglio è anche perché poi, come detto prima, si può anche magari riprovare se non si è soddisfatti, ok? Domanda da un milione di dollari, allora ve lo menziono se vi state guardando attorno, ok? C'è informatica e forse l'avete visto, c'è anche ingegneria informatica, ok? Allora, la risposta molto breve, qual è la differenza tra le due? Sembrano la stessa cosa, ok? In realtà non sono la stessa cosa, allora chiariamo che c'è una parte base di matematica, ma questa è comune a tutti i corsi di scienze e di ingegneria, cambia qualcosa nelle proporzioni, ok? Allora, a informatica vedete cosa succede, più o meno, matematica c'è un 27%, sono le basi, i fondamenti, e poi si fa un 70% di informatica, ok? Ingegneria e informatica invece succede qualcos'altro, come vedete in questa figura, ok? 48% di informatica e soprattutto questa parte che manca viene riempita da una parte non informatica, ok? Circuit, controlli, segnali, eccetera. Perché questa è la differenza, che ha anche senso se ci pensate, se ci sono due lauree che hanno la parola informatica, però sono due diverse, vuol dire che ci deve essere qualche differenza. La differenza è che ingegneria e informatica si fa meno informatica e si fa anche una parte di cose che non sono strettamente informatiche, circuiti elettrici, controlli, segnali, eccetera, ok? Per cui, attenzione, la morale informatica è il corso primario di informatica dell'università, ha il 70% di informatica, ingegneria informatica molto meno il 48%, ok? E in più vi menziono anche, guardate, informatevi sui corsi, oltre a quello che vi sto dicendo io, qualunque corso vogliate scegliere, che non contano solo le proporzioni, cioè qualcuno fa più di questo, più dell'altro, conta anche la varietà dei corsi, cioè poi quel vostro 70% di informatica o 48% se uno sceglie ingegneria e informatica, poi va riempito con dei corsi, allora conta anche la varietà di corsi, ok? Allora, attenzione che non basta un nome per fare il corso di l'art, questo vale per qualunque cosa, non solo per informatica contro, fra virgolette, ingegneria informatica o altri, non fermatevi solo al nome, il nome è solo una supersintesi, state attenti che ci sono differenze, guardate magari un po' la lista dei corsi, chiedete, informatevi, potete anche chiedere, siamo tutti ben qui insomma pronti, oltre alle inforum, le stanze che ci sono disponibili, mandate qualche mail, non c'è nessun problema, se avete dubbi. Tornando a informatica, i corsi principali, ve li menziono, insomma sono programmazione, reti, web, quello che vi dicevo, creare bellissimi siti web, algoritmi, fondamenti, architetture, sistemi operativi, ingegneria del software, basi di dati, questi sono i corsi base, quelli che vi permettono poi di governare il mondo, come dicevamo prima. Sono corsi che si fanno a semestri, praticamente quasi tutta l'università di Padova funziona con questa struttura, non è obbligatorio seguire, anche se ovviamente è consigliato, è molto più bello seguire dal vivo, che se siamo ancora in periodo Covid, se saremo, vi menziono, come probabilmente sapete, le lezioni si fanno anche online, per cui se uno non vuole venire, può stare, o non può, perché il Covid magari torna alla riscossa, se non può stare comodamente, è seduto da casa, le lezioni a informatica vengono anche registrate, anche se uno non le segue in diretta, sono sempre lì, per cui insomma c'è ampia flessibilità. Poi ci sono vari crediti, in progetti informatici, e c'è anche la tesi. La tesi si può fare interna o esterna, interna c'è un argomento innovativo, che un professore magari vi offre, fare un nuovo progetto, oppure esterna fare lo stagio in azienda. Questo è uno dei punti di forza del corso di laurea in informatica, perché c'è uno stretto rapporto con Confindustria, tutte le aziende del territorio, anche perché, quello che vi dicevo prima, non solo aziende informatiche, cioè tutte le aziende che usano informatica hanno bisogno di informatica, appunto, per cui non pensate alla professore dell'informatico, come vado solo a lavorare nell'azienda che fa programmi, o che fa sistemi informatici, no, un sacco di aziende usano informatica e per cui hanno bisogno di questa figura professionale, e per cui si può fare la tesi, lo stagio da loro, e questo offre già, come capite, un vantaggio, perché si entra praticamente subito nel mercato del lavoro e le aziende sono soddisfattissime, tant'è che molte poi offrono direttamente un posto a chi va a fare lo stagio da loro, e ci sono incontri che noi organizziamo periodicamente ogni anno. Notate anche, come vi dicevo, che poi si può proseguire con la laurea magistrale di due anni, e ricordate il discorso sulla varietà di prima, la cosa bella qual è? Che queste lauree magistrali che noi offriamo non servono solo a dare competenze di livello superiore, eccetera, ma possono anche essere usufruite già dalla laurea triennale, cioè le lauree triennali hanno dei corsi opzionali e uno può riempire parte di queste opzioni con tutta l'offerta e la grande varietà delle lauree magistrali che sono offerte, che fanno capo al mondo informatico. Ve le menziono, sono tre, per cui c'è un'ottima offerta, di cui anche una in collaborazione con altri dipartimenti, come quella di Data Science, per cui Data Science è quella che vi permette di analizzare i dati, scoprire relazioni, trovare cose nuove con tutti i dati che il mondo ci offre, ok, pensate a sensori, automobili, città intelligenti, c'è la laurea in Cyber Security, la sicurezza dei sistemi, leggete sui giornali quotidianamente che ci sono magari problemi di sicurezza, hacker che si infiltrano, ecco, qui diventerete esperti, e poi la laurea di base in informatica che permette di avere un'infarinatura generale, diciamo, globale, che copre anche aspetti di sicurezza e di Data Science opzionalmente, ok, tantissimi corsi, vi dicevo, la varietà qui, per fortuna, è molto grande, intelligenza artificiale, sicurezza, internet, telefonini, web, data management, programmazione, e anche cose laterali, nel senso che non fanno parte dello stereotipo che noi ci immaginiamo dell'informatico, aspetti giuridici, ed etici, start-up, come costruire la vostra nuova ditta di successo, il novello Steve Jobs, ok, sarete preparati a tutti questi aspetti. Inoltre, era stato anche menzionato prima, ci sono tantissime altre università consorziate, nel caso di informatica chiaramente la varietà è enorme, perché ci sono, perché è una, delle lauree fondamentali in ogni università europea, per cui dall'Olanda, dall'Adenimarca, Francia, Spagna, Germania, Finlandia, tante altre, qui c'è una varietà ottima, per cui se volete poi fare un periodo di esperienza all'estero si può fare tranquillamente, ok. Concludo, se vi piacciono l'informatica, le nuove tecnologie, come vi dicevo, fate attenzione ai contenuti dei vari corsi al di là del nome, in ogni caso state per virgolette tranquilli, perché l'Università di Padova è un'ottima università, è ai primi posti del mondo, ok, per cui qualunque scelta facciate, avrete poi un'ottima preparazione, per cui siete anche fortunati a scegliere questa università, magari perché siete vicini o anche se siete lontani la scegliete, è un'ottima università tra le prime al mondo, non solo in Italia, soprattutto quando scegliete, se posso permettermi, non usate solo la testa, seguite anche il cuore, perché poi quello che fate con la laurea impatta quello che fate nella vita, per cui scegliete anche qualcosa che vi appassiona, usate la testa ma anche un po' il cuore, perché la laurea non serve solo a sopravvivere ma serve a vivere, per cui non dovrebbe servire solo a darvi uno stipendio ma poi plasma la vostra vita, per cui anni della vostra vita saranno poi passati a fare quello che imparate nel corso di laurea e per cui insomma cercate di scegliere bene, ok, soprattutto non andate in crisi, se poi non vi trovate bene potete sempre cambiare, noi abbiamo tanti studenti che magari arrivano al secondo anno perché al primo anno hanno fatto la scelta sbagliata e poi decidono di cambiare l'aura, per cui non vi stressate troppo, sapete che anche se la scelta ora magari non è così facile potete sempre poi cambiare, insomma la scelta non è mai definitiva, ok, per cui un grande in bocca al lupo qualunque sia la vostra scelta e vi lascio alla presentazione successiva del corso di laurea in matematica. Grazie. Sono Riccardo Colpi, sono il presidente dei consigli di corso di studi in matematica e perfetto e vi racconto un attimo allora la parte della matematica. Allora innanzitutto vediamo un po' qual è l'ambientazione dove ci troviamo, ci troviamo a 15 minuti della stazione ferroviaria di Padova, questo vale anche per l'informatica, il dipartimento di matematica dedicato Tullio Levi Civita si trova nella zona del Piovego in via Trieste 15 minuti a piedi dalla stazione e ospita più di 100 tra docenti e personale oltre naturalmente a dottorandi borsisti assegnisti quindi è un buon gruppo di persone qui solo qualche immagine ecco si chiama Torre Archimede in realtà non ha granché la dimensione di una Torre ma in ogni caso vedete questa almeno da un punto di vista prospettico dall'interno e cava all'interno l'ultima fotografia in basso a destra forse può spiegare come mai si chiama Torre abbiamo una biblioteca di cui siamo molto orgogliosi delle belle aule in ogni caso ecco questo è la logistica che cosa quali sono le prospettive di una persona che si iscrive al corso di laurea triennale in matematica le prospettive sono quelle poi di entrare nel mondo del lavoro oppure di proseguire completandolo con un percorso magistrale in questi modi sicuramente quantomeno in Ateneo di Padova in questi modi che sono qui prospettati continuando con la laurea magistrale in matematica che è una laurea internazionale quindi in mathematics oppure la laurea in data science o computer science che è appunto la magistrale di informatica oppure di cyber security o di ingegneria matematica oppure anche la laurea magistrale in italiano di scienze statistiche naturalmente questa è una delle possibilità poi naturalmente c'è anche mobilità rispetto ad altri Atenei non è infrequente che qualcuno laureato in triennale in matematica a Padova prosegue la magistrale a Milano a Torino a Udine o via così o viceversa che arrivino un terzo delle nostre matricole magistrali della laurea magistrale in mathematics proviene da altri Atenei nazionali o internazionali quindi c'è questa mobilità e questa percorrenza non univoca qual è l'ambiente allora la didattica si svolge principalmente in Torre Archimede ma in parte anche nel polidattico di Paolotti che si trova 10 minuti a piedi dal dipartimento lì ci sono anche altre aule informatiche e altre aule didattiche per cui vi capiterà di muovervi tra la sede del dipartimento e la zona del Paolotti poi cosa succede allora per quanto riguarda la laurea in matematica diciamo il primo e il secondo anno non vi dovete tanto preoccupare perché gli insegnamenti che dovrete seguire sono sostanzialmente già definiti mentre invece a partire dal terzo anno e continuando per esempio nella magistrale con i due anni della magistrale presenterete voi un percorso a scelta di studi allora per farvi capire quali sono le possibilità e quali sono i contenuti degli insegnamenti tra i quali voi potete scegliere il vostro percorso c'è tipicamente ogni settembre verso metà settembre un incontro orientativo che dura una giornata intera in cui vengono descritti i contenuti degli insegnamenti e le loro correlazioni allora perché mai scriversi a matematica allora partiamo da quattro secoli fa e poi rapidamente convergiamo verso l'attuale allora Galileo Galilei che è stato diciamo rivoluzionario dal punto di vista della ricerca forse il primo ricercatore ha osservato che la matematica sta in tutto l'universo è la lingua in cui è scritto l'universo la matematica in effetti è un non solo un linguaggio non solo uno strumento ma è una forma mentis è una diciamo è qualcosa che permea tutto lo scibile scientifico quindi non è possibile parlare di chimica di biologia o di qualunque altra disciplina senza avere delle basi di matematica quindi la matematica è alla base diciamo di tutte le discipline scientifiche questo quattro secoli fa se ne erano accorti un secolo fa tutti noi conosciamo Einstein e sappiamo quanto rivoluzionario è stata per esempio la sua scoperta della relatività generale pochi sanno che il support della relatività generale affrontata da Einstein è stata possibile solo grazie al contributo di un famoso matematico dell'università di Padova che era Tullio Levi Civita al quale abbiamo dedicato il nostro dipartimento e pensatevi un secolo fa Tullio Levi Civita si era accorto che c'erano delle cose che non tornavano nei lavori pubblicati da Einstein sulla relatività generale e gli scrive una lettera esprimendo diciamo le sue proprietà chiedendo dei chiarimenti su alcuni punti e Einstein gli risponde quando ho visto che lei rivolge la sua obiezione contro la dimostrazione più importante della teoria che mi è costata fiumi di sudore mi sono spaventato non poco poiché so che lei padroneggia queste cose matematiche meglio di me è stata una svolta all'inizio Einstein non amava tanto la matematica ma aveva delle intuizioni fisiche straordinarie è stato un fisico straordinario altamente non sperimentale teorico e diciamo che con la conoscenza di Tullio Levi Civita e tutto il supporto sul calcolo differenziale assoluto che aveva elaborato Tullio Levi Civita insieme al suo maestro Ricci Curbastro ha una svolta importante tant'è vero che poi invece la sua parte la seconda parte della sua produzione scientifica di Einstein è stata prevalentemente guidata dalla matematica e dall'eleganza della matematica ma in epoca molto più recente cosa possiamo dire ai matematici illustri come De Giorgi e medaglie Field sapete cos'è la medaglia Field? In matematica non c'è il premio Nobel c'è la medaglia Field che è l'equivalente del premio Nobel allora è stato osservato che la matematica è soprattutto fantasia non solo anche nel senso che ha una componente di creatività di invenzione che è importantissima e che forse è poco evidente guardando alla matematica che uno studia a scuola o da quella che i mass media diciamo ci passano ma c'è una componente di invenzione fondamentale la matematica è dura come il diamante questo è noto a molti è una materia difficile senza dubbio il corso di laurea in matematica non ce lo nascondiamo uno dei corsi di laurea più duri dell'Ateneo Padovano e poi un'altra cosa che si ricollega a quello che diceva Galilei prima è la incredibile irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali e cioè che la matematica è incredibilmente efficace funzionale a tutte le scienze perché dice questo matematico il miracolo della appropriatezza del linguaggio della matematica nella formulazione delle leggi della fisica è un regalo meraviglioso che ne capiamo ne meritiamo allora cosa fa un matematico quando si è laureato ed entra nel mondo del lavoro diciamo questa è un po' una presentazione piuttosto semplificata diciamo che ci sono tre principali vie di applicazione vie di lavorative raggruppate sinteticamente così verso le applicazioni verso la comunicazione verso la ricerca qui c'è un link all'Università di Genova il Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova dove c'è un bellissimo una bellissimo risultato indagine l'esito di un'indagine sulle professioni del matematico che vi invito ad andare a vedere ad andare a vedere e cosa sono spieghiamo meglio le applicazioni le applicazioni la matematica c'è dappertutto c'è nelle previsioni meteorologiche c'è nell'ottimizzazione del traffico aereo sopra Chicago c'è nei modelli del finanziari per gli investimenti nello studio dell'epidemiologia c'è nella crittografia che utilizziamo tutti i giorni quando scriviamo un messaggio su Whatsapp o facciamo una transazione una transazione bancaria o acquistiamo con la carta di credito qualcosa c'è naturalmente nella statistica nell'informatica come è stato giustamente ricordato poc'anzi e in generale nell'ingegneria nella fisica ma in generale in tutte le scienze e le applicazioni sono molteplici e questo è uno degli sviluppi lavorativi più importanti accanto a questo c'è quello della comunicazione che è rientra in questo ambito vogliamo far rientrare l'insegnamento nella scuola l'aggiornamento degli insegnanti il giornalismo scientifico e la divulgazione pubblicistica anche qui ha un ruolo alla matematica non sempre così evidente leggendo i mass media è un po' nascosto e la ricerca forse questa è una cosa che appare più chiara a tutti la ricerca riguarda naturalmente varie discipline l'analisi la teoria di numeri l'algebra la geometria la fisica matematica la probabilità della statistica la matematica discreta in qualche modo diciamo tutti abbiamo presente che cosa si faccia cosa possa essere una ricerca in fisica teorica e una ricerca in matematica del tutto analoga solo che l'universo che è oggetto della nostra ricerca per cui vogliamo capire com'è fatto non è il microcosmo il macrocosmo ma è il mondo intellettuale è l'universo astratto della matematica che è un universo puramente mentale ma è analogo a quello a quello della sì certo allora qui c'è già una domanda magari alle domande rispondo alla fine chiedo scusa l'ho annotata grazie per l'intervento vediamo come si studia matematica a Padova allora ci sono tre livelli naturalmente la laurea triennale dove si può già poi trovare lavoro come succedeva per informatica anche eventualmente proseguendo gli studi la laurea magistrale che dà naturalmente un maggiore approfondimento e quindi più possibilità di lavoro più possibilità nel mondo del lavoro e poi si può continuare con il dottorato di ricerca come vi era stato presentato nella introduzione generale di tutte le lauree scientifiche che di fatto naturalmente occorre vincere un concorso per avere una posizione di dottorato di ricerca è un periodo che dura tre anni con una borsa piuttosto importante insomma per cui è retribuito ed è la porta di accesso per la ricerca che consente di prendere contatti con i gruppi più avanzati di ricerca in Italia e in tutto il mondo poi per iscriversi a matematica adesso il tempo stringe vado più velocemente c'è il test di ammissione è già stato parlato ampiamente di questo talk per quanto riguarda la matematica non essendo un corso di laurea numero programmato è solo un test di autovalutazione che dà eventualmente l'obbligo formativo aggiuntivo che poi si risolve con un corso di preparazione ad hoc poi ecco un'altra cosa che era stata ricordata nella parte generale ci sono dieci posizioni nella scuola galliana di studi superiori che è l'analogo della normale di Pisa dove si entra con concorso e nel caso si abbina la laurea di matematica come tutte le altre lauree scientifiche possono essere abbinate anche a questa posizione si entra in un collegio una residenza universitaria e si hanno dei finanziamenti anche per andare all'estero naturalmente questo è un impegno importante perché oltre agli esami tradizionali del corso di laurea si aggiungono degli esami interni della scuola e degli insegnamenti interni che si seguono alla scuola altro modo per andare all'estero ci sono i progetti Socrates e Erasmus una cosa da notarsi a livello nazionale ci sono 30 borsi di studio importanti 4.000 euro l'anno dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica si può partecipare al bando fare un esame che di solito avviene nel mese di maggio c'è anche a Padova si raccoglie il test anche a Padova l'esame si può fare anche a Padova e questo dà diritto appunto a questa borsa di studio che è di 4.000 euro per anno la laurea magistrale poi presenta due curricula che sono particolarmente nella direzione della internazionalizzazione perché oltre a essere un'area in inglese questi due percorsi si accede sempre per concorso con posti limitati in questo caso sono percorsi a doppio titolo uno sceglie oltre all'Università di Padova un'altra Università straniera del Consorzio e dà una laurea quando si laurea che ha doppia valenza se la seconda università per esempio è francese una laureata in matematica sia in Italia che in Francia ok allora ci sono due percorsi uno più di indirizzo puro teorico e quell'altro indirizzo applicativo vediamo ancora la suddivisione anche questo è stato ricordato nella parte generale dell'anno in semestri con il periodo di recupero in mezzo e il peso come vi è già stato spiegato delle ore di studio ogni ora di studio di presenza in aula a seguire le lezioni richiede almeno due ore di studio individuale poi a casa questo è importante rispetto a scuola ci sono dei ritmi molto più serrati poi ecco come vi dicevo i primi due anni sono essenzialmente comuni agli studenti dico essenzialmente perché c'è solo un esame da scegliere fra tre al secondo anno poi invece al terzo anno si devono optare si deve presentare un piano di studi dove si sceglie un percorso personalizzato anche qui in maniera piuttosto semplificata si dice che ci sono tre indirizzi quello generale che è di matematica pura quello didattico che è diciamo nella orientato verso la preparazione di insegnamento nella scuola superiore secondaria e l'indirizzo applicativo per le applicazioni della matematica ma in ogni caso all'interno di ogni indirizzo lo studente ha molta l'offerta didattica è ricchissima ci sono moltissimi insegnamenti lo studente sceglie sceglie quello gli esami che preferisce presentando il piano di studi che poi deve essere naturalmente approvato il primo anno invece è diciamo disegnato in maniera rigida e ci sono c'è l'analisi matematica la geometria che interessa tutti e due i semestri l'algebra la probabilità e statistica la programmazione e la fisica 1 che invece interessa non solo un semestre alcuni dati statistici allora cosa succede intanto la distribuzione delle immatricolazioni è leggermente spostata verso genere maschile ma non così non così sbilanciata come vedete guardate i risultati più recenti la corte 2019 2020 siamo fermati lì perché abbiamo voluto mostrare il caso statistico pre-covid erano 125 maschi 94 femmine ok e poi quelli provenienti da fuori regione e questo è anche il voto medio e la durata media degli studi d'accordo poi un po' di statistiche ancora il 70% delle persone laureate questa è un'indagine fatta a 5 anni dalla laurea magistrale quindi 5 anni dopo aver finito il percorso completo di laurea in matematica il 70% ha partecipato sta partecipando attualmente ancora a un'attività di formazione post laurea che cosa è questo è una percentuale piuttosto importante sono per chi per esempio ha scelto il mondo dell'insegnamento sta facendo un master per avere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola chi è nell'industria sta facendo un periodo di formazione chi è nella ricerca sta facendo il dottorato o una borsa post doc e quindi sta ancora partecipando a attività di tipo formativo l'82% dei laureati lavorano e il rimanente il rimanente 18 è disoccupato no disoccupati zero cosa vuol dire questo vuol dire che sostanzialmente non stanno cercando lavoro quindi l'82% dei laureati ha cercato trovato lavoro e non c'è nessun disoccupato occupati che proseguono il lavoro precedente alla laurea sono pochi lo stipendio medio è attorno ai 2000 euro e poi c'è un indice sulla efficacia dei 5 livelli questa è una statistica che dice chi riscontra dichiara che la propria laurea è stata molto efficace è il 64% naturalmente questo numero non è elevatissimo ma perché lo spettro delle attività che può fare un matematico è molto ampio rispetto a quello che uno può pensare della formazione questo scorre rapidamente tenete in mente solo questo Alma Laurea pubblico potete andare a vedere l'Alma Laurea fa regolarmente delle statistiche e presenta e vedete che tipo di impiego si può trovare dopo la laurea devo correre ecco questa è l'ultima pagina dove ci sono delle informazioni utili sulla posizione del dipartimento e sul test di ammissione c'è un link utile questa la versione pdf di questa presentazione che vi ho fatto qui rapidamente sarà scaricabile dal sito del corso di laurea in matematica quindi se voi cercate sul web lo troverete e potrete avere rispondo subito ad un quesito vediamo in quanti è possibile diventare insegnante di matematica nelle scuole secondarie dopo un'alario in matematica certo è possibile il governo continua a cambiare le regole diciamo è possibile dopo un periodo di ulteriore formazione allora innanzitutto servono in questo momento 24 crediti formativi universitari in più parte di quali possono essere eseguite all'interno della laurea anche tutti con un semestre aggiuntivo ma diciamo oltre ai crediti previsti dalla laurea in matematica oppure può essere per chi è già laureato magistrale può essere un percorso che può essere fatto successivamente sono richiesti questi crediti e un periodo di formazione allora quindi non c'è un accesso diretto anche se per esempio quest'anno le graduatorie degli insegnanti in servizio sono state subito esaurite e parecchi dirigenti scolastici hanno contattavano il dipartimento per domandare se c'erano neolaureati disposti a prendere supplenze temporanee ecco però per avere un posto di ruolo bisogna seguire il percorso completo quindi oltre alla laurea magistrale c'è un anno generalmente di master di specializzazione per l'insegnamento non sono non posso essere più preciso perché questo cambia cambia di anno in anno nel senso che a seconda della la formazione può essere tirocinio presso la scuola o qualcos'altro a quanto serve aver condotto un tipo di studi scientifici alle superiori molto poco nel senso che si riparte da zero allora tipicamente si sente dire ah io ho fatto liceo classico ah io ho fatto un istituto tecnico allora non avrò problemi a studiare matematica questo è un falso mito perché se uno ha fatto liceo scientifico si sente tante volte forte poi scopre al primo anno di essere meno forte di tanti altri chi ha fatto un liceo classico e pensa di essere lontano in realtà ha imparato un metodo di studi specialmente al ginnasio che lo rende più forte di altri studenti verso uno studio astratto che è tipico del primo soprattutto del primo e secondo anno della laurea in matematica è un po' un tuffo in acqua fredda e a cui è più preparato se volete paradossalmente una persona che ha fatto un percorso di studi di tipo classico quindi non preoccupatevi si riparte sostanzialmente da zero forse ecco dovete sapervela cavare con le disequazioni e le frazioni ma non con gli integrali e le derivate si riparte da zero completamente se avete altre domande per favore scrivetele in chat mi spiace che sia stato questo ah una cosa importantissima adesso vi scrivo in chat il il numero diciamo il link non un link vi do il il codice di zoom per entrare in quello che è l'info point che è partito alle due e mezza di oggi per la matematica l'informatica e la statistica alla quale potete accedere e ci saranno ci sarà per ogni materia un docente degli studenti e degli studenti già del secondo terzo anno della laurea triennale che risponderanno alle vostre domande scrivo qui in chat vediamo se ci riesco a tutti allora sì adesso arrivo scusatemi allora scriviamo qui infopoint matematica informatica adesso lo pubblico e statistica dalle 14 e 30 alle 17 e 30 via zoom qui allora scrivo il numero zoom che dovete digitare e lo dico ad alta voce così magari qualcuno intanto sta prendendo nota 8 5 4 7 1 4 8 8 7 5 0 e se vi viene chiesta una password la metto tra parentesi è 4 9 6 8 5 8 quindi entrate fate partire l'applicazione zoom e digitate il codice e digitate il codice del meeting con il primo numero e se vi viene chiesta una password il secondo dovrebbe essere visibile da tutti eccoci qua e c'è l'info point già attivo in questo momento vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione mi dispiace per il disguido tecnico prendete nota di questo numero vi saluto e spero di vedervi presto presso il dipartimento di matematica arrivederci a tutti per l'attenzione